Bene ragazzi io sono Martex, bentornati a una nuova video di Fortnite Questa che vedete è la schermata di caricamento della settimana 5 che sbloccherete non appena finirete tutte le missioni di questa settimana Tra l'altro raffigura questa skin misteriosa chissà chi sarà mai Ma ora, la stella segreta ragazzi, dove si trova? Utilizziamo lo screen appena sbloccato e se lo andiamo a zoomare in alto a destra Troveremo delle coordinate che ci indicheranno il luogo esatto di dove poter trovare questa stellina Le coordinate sono B2, B3, C2 e C3 E si vanno a chiudere proprio qui, vicino al castello di Montagnole Maledette Ragazzi cominciamo a scendere e vediamo se sarà lì la nostra stella Dovrebbe trovarsi proprio alla sinistra di questa paleolica, infatti vedo un puntino sterrato Eccoci ci siamo quasi ragazzi, vediamo se appare Ragazzi stellina segreta, settimana 5 Vi ripinno come al solito la zona così da essere ancora più chiari, eccola qui Io spero di esservi stato d'aiuto ragazzi, se così fosse vi invito a lasciare un bel like, condividere il video con tutti i vostri amici E iscrivetevi se ancora non siete iscritti Noi ci becchiamo nella prossima video guida, un salutone da Martex Sia brothers Ciao 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 Ciao